20 anni di giocate alla console Un più e vent'anni quella console tanto amata dagli italiani che fa tornare i grandi bambini Un più e vent'anni Un più e vent'anni Un anniversario che la dice lunga su come sia cambiato il mondo dei videogiochi Il 3 dicembre del 1994 Sony lancia la Playstation Destinata a restare nella storia Vi ritrovate la speciale tecnologia del TG-Com Buon compleanno Playstation Tent'anni fa veniva commercializzata la console che più di ogni Andra Tent'anni fa veniva commercializzata la console che più di ogni e vent'anni Tent'anni fa veniva commercializzata la console che più di ogni e vent'anni